Quando Stefania Milo ha insistito perché facessi l'ultimo intervento, come dire, mi ha dato due responsabilità. Quello di tirare le fila, ma eviterò assolutamente. L'altra è quella di fare l'ultimo intervento prima del pranzo, e questa è la vera responsabilità, quindi cercherò di essere ancora più breve di quello che è il tempo che mi sarebbe concesso. Quando mi è stato chiesto appunto di riflettere su questo tema, mi sono chiesto come fare per raccontare quella che è probabilmente la più grossa difficoltà che viviamo oggi quando parliamo della dialettica tra artigiani e maker. E la risposta migliore che mi è venuta è quella di pensare a una malattia. Non perché ho la bronchite, ma semplicemente per il fatto che c'è una malattia che si chiama agenesia del corpo calloso. Ed è quella malattia molto rara che avviene quando l'emisfero destro del cervello non parla più col sinistro. Ed è il rischio che noi corriamo ogni qualvolta cominciamo ad avvilupparci in discorsi che vedono la dinamica del virtuale e la dinamica del reale contrapposte come se fossero due giocatori di tennis che stanno giocando una partita. Qual è il problema? Il problema è che quando ci si sviluppa questo tipo di dinamica noi ossistiamo un contesto in cui siamo tutti quanti concentrati sulla pallina e non ci rendiamo conto del fatto che quello che sta cambiando davvero non è la pallina, è il campo di gioco. Quindi tutti quanti concentrati sul particolare della dialettica tra i due mondi e nessuno che si rende conto che in realtà semplicemente quello che sta succedendo è un grande cambiamento del campo di gioco che non può già oggi vedere più contraposti il virtuale e il reale. Al più possiamo avere il digitale e l'analogico che entrambi contribuiscono alla costruzione di quello che deve essere un sistema armonico. Un sistema armonico, qui ho rappresentato con un biscotto in realtà questo per sollecitare un'altra volta la vicinanza col pranzo ma anche perché questo biscotto rappresenta il Tao e come dire, mia sorella è buddista, mi spiega tante cose però sostanzialmente le sinergie che si sviluppano in maniera armonica tra questi due elementi devono essere necessariamente valorizzate e altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che continueremo a trovarci in un contesto in cui abbiamo da una parte qualcosa che tradizionalmente viene vista un po' come un vecchio treno al vapore che deve riuscire in qualche modo a ripensarsi dall'altra un treno ad alta velocità che in realtà non si capisce bene dove stia andando con risultati che spesso sono abbastanza risibili e soltanto superando questa dinamica riusciremo davvero ad aprirci la testa e capire che quello che dobbiamo fare quando parliamo di Maker Faire quando parliamo di fiere nelle quali si incontrano artigiani digitali e mi è piaciuto moltissimo il non sapersi definire delle fonderie digitali siamo artigiani, siamo maker, siamo designer siamo persone che pensano e per pensare dobbiamo essere in grado di aprire la nostra testa e dobbiamo farlo tutti altrimenti il rischio è che anche quando parliamo di innovazione ci avviciniamo all'innovazione come facevano i giapponesi voi sapete la storia dell'innovazione alla giapponese? e non parlo di Toyota e cose varie parlo di altro allora si racconta che ho ancora tempo per raccontarvi brevemente un aneddoto si racconta che nell'antichità in Giappone il maiale venisse mangiato crudo e dalle facce che vedo dai primi posti della fila immagino soltanto il vostro senso di stupore rispetto a questo maiale mangiato crudo che successe? successe che in un paesino del Giappone a un certo punto i maiali chiusi in questo bello allevamento ai margini del paese arrivò una tempesta, un temporale cadde un fulmine il fulmine prese un albero l'albero prese fuoco l'albero infuocato cadde sull'allevamento dei maiali e tutti quanti i maiali presero fuoco cosa successe? successe che qualcuno preso dai morsi della fame ma ovviamente restivo a mangiare questa cosa orrenda che è il maiale cotto a un certo punto però quando la fame era diventata così forte da superare il ribrezzo andò ad assaggiare questo maiale assaggiò questo maiale e si rese conto che il maiale porca miseria il maiale cotto è più buono che successe? successe che da quel giorno in poi in Giappone cominciarono a mangiare maiale cotto peccato che per mangiare maiale cotto aspettassero che piovesse che cadesse un albero infuocato sul recinto e questo albero desse fuoco ai maiali questa non è innovazione non è l'innovazione che ci serve perché l'innovazione che ci serve dobbiamo renderci conto che è un po' come il ballo del samba si fanno due passi avanti uno di lato e uno indietro chi di voi ha provato sa che l'innovazione non è una strada dritta sa che bisogna provare, sbagliare provare, superare l'ostacolo tornare indietro e ripartire e questa è la dialettica che mi piace pensare possa essere quella che guiderà in maniera virtuosa lo sviluppo dell'innovazione in Italia dove non possiamo pensare che ci sia contrapposizione tra maker e artigiani perché gli artigiani sono maker devono essere maker sono maker per definizione e i maker devono necessariamente avvicinarsi agli artigiani anche perché soltanto riuscendo a ripensare complessivamente i nostri modelli di business riusciremo davvero a identificare quelle innovazioni disruptive che hanno letteralmente come quelle che hanno negli ultimi anni cambiato faccia al nostro mondo e che attenzione quasi mai vengono dalle industrie di partenza perché se ci pensate quello che sta succedendo quando la tecnologia entra nelle cose prima si parlava di internet of things che succede quando la tecnologia entra nelle cose? io penso sempre a un calciatore che intervistato dopo una partita per non rispondere a una domanda disse una cosa è una cosa un'altra cosa è un'altra cosa poi uno si spiega perché i calciatori insomma non vengono presi in grande considerazione però tutto sommato quel calciatore non aveva tanto torto perché quando la tecnologia entra nelle cose queste cose le cambia nel profondo pensare a un frullatore collegato con arduino e internet o che fa qualcosa di diverso non è pensare semplicemente a un frullatore smart è pensare a qualcosa che cambia il modo di uso cambia il paradigma d'uso cambia le dinamiche di esercizio cambia le funzioni cambia completamente creando un oggetto nuovo creando un mercato nuovo pensate appunto al mercato della musica che è stato rivoluzionato da un attore che veniva dall'ICT da Apple pensate al mercato della fotografia che è stato rivoluzionato da un attore che veniva dall'ICT da HP pensate al mercato perché non serve pensare soltanto digitale pensate al mercato delle compagnie aeree che è stato rivoluzionato nell'ambito del low cost grazie a un'innovazione che viene dalla tecnologia informatica tutti questi mercati non sono stati semplicemente cambiati sono qualcosa di diverso rispetto a prima e questa è la strada che dobbiamo percorrere quando ripensiamo i nostri modelli di business dobbiamo cercare di riavvicinare questi mondi perché soltanto riavvicinando questi mondi riusciremo in qualche modo a superare l'impasse che vede l'un contro l'altro armati settori che invece devono essere sinergici per farlo noi abbiamo pensato di costruire un sistema di tavoli per ragionare su quelle che possono essere le strade le difficoltà i punti di forza tutto ciò che dobbiamo e possiamo fare ciò che possiamo chiedere ciò che dobbiamo pretendere prima di tutto da noi stessi per come dire sfruttare un'ondata di cambiamento che se non viene sfruttata nei suoi punti di forza necessariamente farà sì che noi ne subiamo i punti di debolezza perché attenzione questo spesso sfugge io ho sentito spesso imprenditori artigiani aziende che dicono vabbè ma a me questa cosa non interessa non ne coglierò le opportunità attenzione perché quello che spesso dimentichiamo è che se noi di questo mercato non siamo in grado di cogliere le opportunità quello che faremo è subirne le conseguenze non possiamo essere neutri rispetto a questo settore a questo mondo perché non possiamo essere neutri rispetto a una società che sta cambiando semplicemente e la società è già cambiata e quindi ci siamo chiesti quali sono le parole chiave di questo mondo che cambia lo lavoreremo assieme oggi pomeriggio per identificarle ma qualcuna mi piace pensare di suggerirvela nell'ottica di ragionare su quelli che sono i passi che da una parte gli artigiani e dall'altra i maker per diventare tutti artigiani digitali o comunque diventare un sistema che consenta agli artigiani di sfruttare il digitale e agli artigiani digitali di sfruttare gli artigiani in un contesto sinergico alcune parole le ho pensate la prima di tutte naturalmente è quella della cultura perché non possiamo pensare di salvarci in questo contesto se non lo facciamo attraverso una rivincita culturale è la prima cosa che serve nel momento in cui stiamo ripensando le nostre aziende e penso sia alla cultura d'impresa ma anche alla cultura che tende a valorizzare le risorse reali del nostro paese e questo vuol dire naturalmente sviluppare le nostre conoscenze sviluppare le nostre competenze vuol dire essere in grado di ricostruirci rimmaginarci ricrescere ogni volta nuovi ma ancora questo naturalmente implica che ci sia un rapporto sempre più stretto con la tecnologia e oggi già si è parlato più volte della nostra capacità di ripensare i nostri processi grazie alla tecnologia o di ripensare a ciò che possiamo fare grazie alla tecnologia sui nostri processi che sono due cose diverse molto diverse se ci pensate se ci pensate bene ecco questa dinamica è una dinamica dalla quale non possiamo prescindere gli impatti tecnologici sul nostro lavoro quale che sia il lavoro sono e sono e saranno sempre più forti impatti tecnologici che ci porteranno comunque a un contesto di integrazione noi la sfida dell'artigianato digitale la vinceremo se sapremo integrare questi due mondi ed è un po' come dire in questo momento la mia preoccupazione più grande la nostra capacità di integrare due mondi che difficilmente si parlano difficilmente si capiscono e difficilmente e questo è ancora più grave spesso vogliono parlarsi e per questo un contesto come quello di oggi è importante perché consente a questi mondi di conoscersi tra di loro perché non è sufficiente integrarsi ma la parte destra la parte sinistra del cervello hanno l'obbligo di lavorare in simbiosi se vogliamo cogliere davvero le opportunità di questo nuovo contesto di questo contesto nel quale cominciamo a trattaggiare i confini e le opportunità e questo naturalmente implica essere flessibili essere flessibili vuol dire non arenarsi di fronte a conoscenze consolidate non dare nulla per scontato vuol dire essere sempre disponibili a pensare e ripensare i propri valori il proprio modello le proprie modalità operative questo naturalmente a cosa porta? porta al fatto che noi stiamo assistendo a una dinamica che vede lo sviluppo di modelli di ibridazione che differenza c'è tra l'integrazione e l'ibridazione? quello è un mulo le caratteristiche del mulo nascono sono diverse da quelle del sommare e del cavallo che l'hanno generato sono nuove e nascono da una simbiosi perfetta che sviluppa un qualcosa di innovativo per questo quando parliamo di convergenza non parliamo soltanto di unione di pezzi diversi c'era una vecchia pubblicità che parlava che promuoveva le videofonate legando un telefono a un televisore ma quella non è convergenza quella è un accrocco in realtà quando noi parliamo ad esempio di smartphone stiamo parlando di qualcosa di più di un telefono che fa qualcosa oltre le telefonate stiamo parlando di qualcosa che cambia il nostro modo di vivere perché 48 milioni di telefoni in Italia vogliono dire che oggi noi sulla base di quello che facciamo attraverso questi telefoni stiamo rimodulando rimediando reintermediando le nostre dinamiche relazionali non possiamo pensare non possiamo permetterci di pensare che la rete sia un'alternativa la rete è un pezzo di società un pezzo di società così grande anzi è uno strumento che viene utilizzato da tutta la società e non possiamo far finta di non prenderlo in considerazione questo cosa vuol dire questo vuol dire che dobbiamo essere aperti abbiamo bisogno di apertura apertura al nuovo apertura al diverso apertura al cambiamento apertura al cambiamento che necessariamente implica confronto e per questo occasioni come quella di oggi non tanto questi 15 minuti ma quello che avete visto dopo e quello che vedrete in tutto il corso del pomeriggio anche passeggiando nella Maker Faire questo naturalmente lo dovrete fare domani pomeriggio perché oggi pomeriggio siete ai nostri tavoli ecco è confronto è confrontarsi con altre realtà confrontarsi e ricercare ricercare in termini di capacità di investire nella ricerca ma anche in termini di sviluppare la creatività di sviluppare la curiosità di sviluppare quel processo di serendipiti che in qualche modo fa sì che da ciò che conosciamo nasca qualcosa di nuovo voi sapete tutti cosa è la serendipiti ok si sostanzialmente andare a caccia del lago nel pagliaio e trovarci la figlia del mugnaio quindi o qualcosa di simile ecco tutto questo naturalmente però implica prima di tutto una cosa implica umiltà perché io penso che abbiamo tutti da imparare da tutti è il primo motivo dello sviluppo di dinamiche di non di confronto ma di attrito di diffidenza sapeste quanti sono gli artigiani che ho sentito parlare con diffidenza di quello che sta succedendo e sapeste quanti sono e questo forse è ancora più grave i maker che ho sentito parlare con sufficienza dell'artigianato ecco questa è la prima cosa che dobbiamo cancellare che dobbiamo radere al suolo e per quello vi dico serve cultura perché se non abbiamo l'umiltà di comprendere che l'integrazione che la sinergia che la simbiosi si sviluppa soltanto attraverso un processo in cui ognuno di noi è disponibile a fare un passo indietro per farne assieme due avanti ecco probabilmente nulla di quello che potremmo davvero fare riusciremo davvero a farlo e questo naturalmente implica la nostra capacità di fare rete di fare rete che è sicuramente internet o meglio è attraverso internet ma non è soltanto la tecnologia che pensiamo la nostra capacità di fare rete deve nascere appunto abbiamo visto prima un esempio d'eccellenza di questo tipo di sviluppi dalla nostra capacità di sviluppare in maniera nuova e diversa le relazioni di concepire le reti come elementi costituenti della società guardare le reti vedere le reti trovare le reti e leggere le dinamiche di rete all'interno del nostro business che può essere letto come una rete ora naturalmente questo deriva ovviamente una nuvola di termini che mi piacerebbe che oggi pomeriggio nei nuovi tavoli che abbiamo pensato venisse arricchita venisse ristrutturata venisse completamente cambiata ma che ci consentisse alla fine di questi due giorni di lavoro di uscire con un risultato concreto che è una linea guida chiara di quello che pensiamo possa essere un percorso di avvicinamento di due mondi che non sono più uno virtuale e l'altro reale ma sono al più uno digitale e l'altro analogico e se pensiamo che il nostro mondo non è digitale o analogico ma è uno non possiamo che pensare che questo percorso sia un percorso di convergenza siamo pronti? sicuramente c'è ancora tanta 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 strada da fare ma confido che riprendendo in qualche modo le parole di Popper si riesca in qualche modo a sfruttare la rete così che questa buona idea sia così buona da evitare che ci estingua ora in tutto questo prevengo la domanda io dico che tweet di speranza non ne faccio perché chi vi sta sperando risperato morì e preferisco pensare a fare tweet di fatto quindi pensiamo più che altro a pochi giorni fa c'è stato B2in che aveva come come keyword cambiare per cambiare a me cambiare per cambiare non serve e non piace perché cambiare per cambiare non serve assolutamente niente mi serve cambiare per fare quindi quello che dobbiamo fare forse dopo tanti anni di stasi è comprendere che dobbiamo cambiare per entrare in un'ottica del fare grazie a tutti